Signor direttore, il cassiere mi ha dato del salame. Bene, gli aumenteremo lo stipendio. Ma come? Certo, le ha dato del salame Negroni. Voglio separarmi, mia moglie mi ha dato del salame. Brava, lei è un uomo fortunato. Ma come? Certo, le ha dato del salame Negroni. Dice l'imputato, mi ha dato del salame. Bravo, assolto. Ma come? Certo, le ha dato del salame Negroni. Ecco il celebre marchio che garantisce la qualità di un prodotto genuino e squisito. Dal delizioso Negronetto. Al gustosissimo Cotechino, tutte le specialità Negroni sono l'orgoglio della cucina italiana. Il salame si giudica dal sapore. Quando è Negroni, è buono.